Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi direttamente nelle vostre case il più grande showroom dedicato ai motori dove a Regnare Sovrana non è solo la scelta legata alla convenienza ma è soprattutto la qualità, qualità del prodotto, qualità e grande professionalità di tutto lo staff addetto ai lavori. Accanto a me ritrovo con piacere Denis che ci ricorda l'indirizzo. Ciao, ben ritrovato. Ciao Palma, un bel ritrovato a te e un bel ritrovato a tutti. È semplicissimo raggiungerci, siamo a casa al grasso sulla circonvalazione che collega Torino a Saluzzo. Potete uscire dalla tangenziale alla loggia o dall'autostrada a Carmagnola. Siamo a 10 minuti di strada da entrambe le uscite. Bene, inutile ripetere che da Luciano Moto troverete davvero di tutto. Si è aperta finalmente la stagione delle due ruote e proprio da qui che partirei ed entrerei nel vivo della puntata. A parlare di moto, ma non solo di moto di ultima generazione, le nuove o l'usato recentissimo, anche un reparto outlet per chi volesse spendere meno. Certo, come ha detto Palma, fortunatamente è arrivata la primavera, sta uscendo il primo sole, è bene che non rimaniate sprovvisti di una motocicletta e qua da Luciano Moto potrete trovarne di tutti i tipi e per tutte le tasche. Anticipava che abbiamo aperto un reparto outlet ormai da qualche mese e sarebbe bene veniste a dare un'occhiata perché merita davvero. Ci sono prodotti, nonostante l'età, tagliandati e soprattutto, ricordo, garantiti, cosa che difficilmente si trova sulle moto con oltre 10 anni di vita. Noi diamo un servizio di qualità estremo anche per quei tipi di prodotti e soprattutto siamo disponibili a ritirare l'usato che vale di più e restituirvi la differenza nel caso in cui vogliate acquistarne uno che vale meno. Bene, la parola moto include tantissimi modelli di motociclette e di due ruote, parliamo per esempio di scooter e di quad. Assolutamente sì, il vantaggio di venire qui da Luciano Moto è quello di fare un giro per trovare di tutto. Di tutto vuol dire dalla motocicletta, come dicevamo in apertura, nuova, recentissima, oppure l'outlet anticipato prima, o ancora quad dove abbiamo un fantastico reparto sia con utility che con sport. Abbiamo dei prodotti nuovi ed usati, abbiamo un reparto legato alle moto da cross, da regolarità, i custom. Tutti questi prodotti sono legati a un'operazione fantastica che vi permette di pagarla solo la metà e di utilizzarla due anni in piena libertà. L'operazione, come già sapete, immagino si chiama operazione 50%, è un'operazione che, come detto, vi dà l'opportunità di poter utilizzare il prodotto due anni, avere la manutenzione per due anni al 50% del costo e decidere tra due anni se tenerla, restituirla o sostituirla con grossissimi vantaggi in cambio di quello che preferite. Bene, io vi ricordo che l'unica inevitabile operazione 50 è proprio qui da Luciano Moto. Tanti altri hanno cercato di imitarla, ma qui è nata ed è quella sicuramente più conveniente. Ma abbiamo parlato di moto, ma vi ricordo soprattutto che l'operazione 50 è anche adattabile alle microvetture. Vero, non ne abbiamo parlato, o meglio, ne abbiamo parlato poco. Le microvetture sono un tasto importante per la nostra struttura e ormai 25 anni che siamo presenti sul mercato delle microvetture in qualità di concessionari. Abbiamo sia prodotti nuovi che prodotti usati. Siamo disponibili a venderveli con l'operazione 50%, quindi con un patto garantito di riacquisto a distanza di due anni, con l'opportunità di sostituirvi sempre il prodotto qualora vogliate avere ogni due anni un prodotto all'avanguardia. E soprattutto vi diamo un'assistenza veramente rigorosa, un'assistenza che vi permette addirittura di avere il vostro veicolo preso a domicilio e riportato a domicilio dopo averla tagliandata, piuttosto che ripristinata per qualsiasi vostra esigenza. Ma soprattutto la cosa su cui voglio puntare è che qui da Luciano Moto c'è una vastissima scelta. Abbiamo parlato di moto, abbiamo parlato di quad, di scooter e di microvetture. Non potevano mancare da Luciano Moto i mezzi più particolari come ad esempio i camper, le piccole imbarcazioni e poi cos'altro? Beh, guarda, i camper abbiamo due o tre prodotti in pronta consegna, sono degli oggetti in conto vendita, veramente bellini. Siamo disponibili, nonostante siano in conto vendita, a valutare il ritiro del vostro usato, auto o moto che sia. Abbiamo dei trike, abbiamo delle piccole imbarcazioni come diceva Palma, ci sono addirittura dei gommoni veramente economici. Anche questi, nonostante siano in conto vendita, vi danno l'opportunità comunque di dare indietro il vostro usato o di finanziare il nuovo acquisto. Avete l'opportunità qui da Luciano Moto di trovare delle crosscar, addirittura delle api, qualche veicolo commerciale sia a livello di macchina che a livello di furgone. Diciamo che qua da Luciano Moto c'è un po' di tutto, volevo solamente riagganciarmi al discorso micro vetture di prima che giustamente Palma diceva sono prodotti all'avanguardia, certo non sono più i trabicoli come venivano definiti una volta, vi danno grossissime soddisfazioni, hanno dei costi di gestione irrisori perché con 30 euro si fa il bollo per tutto l'anno, un litro di gasolio vi permette di poter percorrere almeno 30 chilometri e soprattutto hanno delle spese di gestione assicurative veramente ridicole, non pagano il parcheggio nella zona blu, non hanno dei vincoli nella zona ZTL o con le targa alterne, hanno moltissimi vantaggi anche per chi ha la patente. Quindi non siate restrittivi a livello di idee per quanto riguarda l'acquisto dell'auto, venite a valutare anche una macchinina se vi serve un prodotto sicuro, valido ed economico. Bene Dennis, micro vetture, mezzi particolari, addirittura una moto slitta che vedete ora scorrere nelle immagini, cosa manca qui da Luciano Moto? Beh direi che possiamo andare a visionare le auto, ne abbiamo un po' di tutti i tipi, sportive non solo, economiche e non solo, mezzi particolari, andiamo nel piazzale a vedere cosa vi abbiamo riservato. Restate in nostra compagnia. Abbiamo parlato di primavera, quale miglior prodotto se non un cabrio per poter partire? Abbiamo uno spettacolare SLK della Mercedes, si parla di un 1.8 di cilindrata con allestimento MG veramente fenomenale, super accessoriato, fare all'oxeno, cerchi da 18, navigatore, interno in pelle, addirittura cambio automatico, un anno di garanzia a un prezzo formidabile. Ricordo siamo disponibili per mutare le auto con le moto anche di valore superiore. Ci spostiamo verso una splendida K, si parla di una Street K 1.6, unico proprietario, soli 13.000 km reali e certificati, vettura pari al nuovo, veramente incredibile quest'auto. E ci spostiamo per finire su una Mazda, si parla sempre di un 1.6, abbiamo un prodotto con pochissimi chilometri, 64.000, anno 2000, veramente molto economico ma vantaggiosissimo e coperto da 12 mesi di garanzia. Venitelo a scoprire in sede. Non solo cabrio e SUV, abbiamo anche prodotti classici da famiglia, partiamo con una splendida 147, unico proprietario, 60.000 km certificati, prezzo strepitoso. Per chi venisse, avendo visto la trasmissione, omaggiamo l'impianto GPL, l'auto merita davvero, venite a scoprirla in sede. Altro esemplare molto simile, si parla però di un 1.9 JTD 120 CV, anche questa è una cifra interessantissima, permutabile con le vostre auto e con le vostre moto. Continuiamo la carrellata con Toyota, si parla di un Auris 2.2 turbodiesel, unico proprietario, 79.000 km, allestimento Sol top di gamma, anche questa dotata di doppio treno di gomme estive ed invernali. Passiamo a un'altra auto, molto recente con pochissimi chilometri, una Fiat Bravo in allestimento Sport, cerchi particolarissimi, gommati a nuovo, vettura appena tagliandata, 66.000 km, molto molto bella. Si parla di un 1.9 120 CV. Passiamo a due vetture molto più recenti, una spettacolare Megane Sport GT, una vettura del 2014, unico proprietario, per chi servisse la vettura è fatturabile con IVA esposta, pochissimi chilometri, super accessoriata. Altrettanti pochi chilometri per questa splendida Ford, si parla di 18.000, unico proprietario, anno 2013, idonea anche alla guida da neopatentati. Anche questa volendo disponibile ad un impianto GPL. Ci spostiamo su delle vetture a tre porte, ritenute utilitarie, un po' più classiche, una splendida Lancia Ypsilon Eco Chic in allestimento Diva, unica proprietaria, gommata a nuovo, appena tagliandata, già con l'impianto GPL di serie, quindi con esenzione del bollo a vita. Vettura molto economica, sia nell'acquisto che nei costi di gestione. Un'altra vettura con impianto GPL, una splendida Chevrolet Aveo, si parla di un prodotto unico proprietario, anni 2010, in allestimento Sport LS. Ancora vetture recentissime, una splendida Mito 1.4, allestimento Super, veramente pari al nuovo, 14.000 chilometri originali e certificati. Anche questa ottima per un impianto GPL, ricordo, guidabile da neopatentati, guidabile da neopatentati anche questa Mini, si parla di un 2012, 22.000 chilometri, unico proprietario, primo tagliando omaggio, ancora da eseguire, veramente pari al nuovo, 1.6 diesel, 90 cavalli. E' giusto dare un po' di visibilità anche alle più piccole, ricordo come detto prima che abbiamo diversi prodotti economici, tagliandati, garantiti e permutabili col vostro usato, auto o moto, fosse anche di valore superiore. Presenterei una su tutte, questa splendida Hyundai i10, si parla di un prodotto unica proprietaria, motore revisionato, Euro 5, impianto GPL di serie, quindi esenzione del bollo a vita. Come questa, tante altre buone proposte, venitele a scoprire in sede. Come abbiamo dato spazio alle vetture più economiche, è giusto dare spazio anche a quelle più particolari, partiamo con una splendida 147, 1.9 GTD, un'auto che di originale non ha più nulla, molto particolare sia nell'estetica che nella meccanica, tagliandata, garantita, un prodotto da poter permutare anche col vostro usato, veramente da venire a scoprire in sede. Non perdete questa occasione, ci spostiamo su un altro prodotto che di originale ha ancora meno che la 147, è un prodotto sul quale hanno fatto più di 20.000 euro di modifiche, un prodotto veramente validissimo, si parla di Volkswagen, si parla di Golf, un mito, questo è modificatissimo, da venire a scoprire in sede, anche qui la cifra è veramente molto molto interessante. Per terminare, un prodottino per neopatentati più che valido, anche questo tagliandato è garantito per 12 mesi, un prodotto che è disponibile a poter fare l'impianto GPL, si parla di una cifra veramente irrisoria, 3.900 euro, non copre neanche il costo delle modifiche fatte, venitelo a scoprire in sede. Scusate per la fretta con la quale presenteremo le ultime macchine, ma il tempo è veramente tiranno, partiamo con una splendida punto, 1.9 turbodiesel, 130 cavalli, allestimento sport, tantissimi lavori fatti, tagliandata e garantita, un prezzo formidabile. Continuiamo la carrellata con una splendida Polo GTI, introvabile, 100.000 chilometri, interamente tagliandata, non ha nessun lavoro da fare ed è gommata a nuovo, veramente impeccabile, 150 cavalli a vostra disposizione. Passiamo a un'altra vettura molto particolare, una Opel Corso OPC, moltissimi particolari della versione Nurburing, 57.000 chilometri, unico proprietario, tagliandi rigorosamente in Opel, anche questa da venire a scoprire in sede. Altro prodotto particolarissimo, un mostro della Renault, 250 cavalli, 2.000 solo di cilindrata, la vettura è tagliandata e gommata nuova e a 60.000 chilometri, veramente in allestimento strepitoso, si parla di Megane RS. Continuiamo la carrellata con una fantastica Subaru, una versione due volumi, si parla di un prodotto con soli 80.000 chilometri, motore sostituito a 40.000 in Subaru come la maggior parte di questi prodotti, carne tagliandi dettagliatissimo, rigorosamente originale, doppio treno di cerchi e gomme, anche questo un prezzo strepitoso. L'ultimo, il mostro, è un 997, si parla di turbo, si parla di 500 cavalli, cambio PDK, ufficiale, ancora in garanzia ufficiale, 15.000 chilometri da venire a scoprire in sede. Siamo giunti al termine, sono le ultime tre kick, uno spettacolare BMW 320 del 2012, bianco in allestimento sport con soli 40.000 chilometri, uno spettacolare 330 coupé con cambio automatico, tantissimi accessori, veramente da venire a scoprire in sede, una fantastica TT 1.800 da 160 cavalli in allestimento Advanced Plus. Io vi saluto, vi aspetto numerosi come sempre e per qualsiasi cosa non esitate a contattarci. Bene, questi ovviamente erano solo alcuni esempi del vastissimo assortimento che troverete qui da Luciano Moto a Casalgrasso, visitate il sito lucianomoto.com e ancora meglio venite di persona. Grazie a Dennis, grazie a voi per averci seguito e come sempre linea alla regia.